andare da questa parte da questa parte esatto proviamo a andare da questa parte stavolta se di là abbiamo praticamente il bioma del ghiaccio a parte il fatto che devo ripristinare la vita ok allora no diamo un attimo qua ma va bene mangiare lo scudo ragazzi allora fai così allora andiamo a vedere io va bene ragazzi che basta lupi basta stai rotto mamma mia e ragazzi come sempre la casa e anche qua ci abbiamo il bioma del ghiaccio ragazzi vedete girare attorno non serve il cazzo non so ragazzi non sono in più dove andare perché rilaccia il bioma del ghiaccio rilaccia il bioma del ghiaccio proviamo a girare di qua mamma mia faccio un'altra grotta sono vicino oggi c'è la sblocca non riesco a trovare il bioma del deserto mannaggia la miseria non riesco a capire dove può essere basta basta avete rotto i coglioni vieni qua vieni qua vieni qua pezzo di cacca tutto vieni qui vieni qua vieni qua vieni qua no no non hai capito vieni qui pezzo di merda vaffanculo va mi sto riempiendo veramente di merda mi guardo ma basta laggare però ma è impressionante la cosa ma basta i ragazzi è impossibile non ha mai lasciato no no non hai capito vieni dalla tua carne di merda mangio e basta non ho mai capito ma anche se non da me Ah, sì Ah, sì Il momento è normale ma non è normale non riuscire a trovare il bioma del deserto riuscirò o no ma non Ah E' 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 è un boss oh no 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 la spada oh quattro chili della sabbia madonna santa ragazzi che rottura però io vabbè ma però non abbiamo trovato idioma ooo 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti